...un chilometro con 6.000 abitanti. Abbiamo fatto uno show dentro del condominio e qualche anno fa addirittura l'abbiamo fatto a Mettelopi nel condominio, in Pugliate e in Finoaglia, in Pintandra, perché non le cose più ricostate, non c'erano nessuno. Se non per un ospedale, non c'erano un ospedale, non c'erano un ospedale, non c'erano nessuno. 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 Seggia, non c'erano nessuno. Passeggia senza sapere lo mette. Passeggia per il guardo dei nostri posti, per salutazione, per il controllo di questo, Grazie a tutti. Grazie.